Per capire le intenzioni progettuali del Pier Marini dobbiamo partire da due fonti storiche, una è l'immagine, il dipinto di Angelo Inganni veduta del Teatro alla Scala del 1852 in deposito presso il Museo Teatrale alla Scala Milano appunto e l'altra è un'incisione del mercoli del 1789 che mostra la facciata. Se andiamo al dipinto degli Inganni vediamo che in primo luogo l'accesso delle carrozze sporge rispetto al volume dell'edificio ma anche ai volumi degli edifici che costituiscono il rettifilo, che costituiscono il filo delle facciate di via Manzoni. Infatti la Scala è l'unico edificio che ha un elemento sporgente e che anzi sporge rispetto al filo delle facciate. Perché questo? Ma ovviamente per segnalare in primo luogo la presenza di un edificio pubblico di grande importanza pubblica. Tutti gli altri erano e sono palazzi di grande importanza architettonica ma palazzi privati tra razzi nobiliari o dell'alta borghesia milanese. Qui invece ci troviamo di fronte all'unico grande ritrovo pubblico dei milanesi di allora, dei milanesi della fine del Settecento e quindi doveva assumere un'importanza diversa rispetto agli altri edifici. In secondo luogo la presenza di questo volume ha anche una funzione necessaria, come potete vedere dal dipinto le strade non sono lastricate e quindi sono strade che piene di polvere. Chi camminava si riempiva i vestiti di polvere e mai un nobile, un alto borghese si sarebbe presentato con i vestiti o le scarpe sporche di polvere alla scala. Pensate poi ancora peggio nel momento del fango, ma sarebbe stato possibile che chi scendeva, anche chi fosse arrivato in carrozza, ma come tutti i ricchi arrivavano in carrozza, solo mettere giù i piedini avvolti nelle scarpette di seta, si sarebbe inzaccherato. Quindi questo volume ha un profondo significato funzionale, oltre che appunto quello di segnalare la presenza volumetrica del teatro. L'altro aspetto che dobbiamo considerare è che la Piazza Marino non c'è, in questo dipinto vedete di fronte alla scala c'è ancora un palazzo. La Piazza Marino è frutto di un progetto del 1852, quindi Pier Marini non aveva potuto ragionare sulla facciata e sull'importanza della facciata come la concepiamo noi oggi, vedendola da Piazza Marino, insomma appena si esce da Galleria alla Scala ci si trova di fronte la facciata del teatro. E quindi la necessità di far emergere questo teatro, questo edificio si poteva svolgere solo per volumi. Infatti se notiamo, sempre dall'immagine degli inganni, i volumi sporgono via via in successione. Ecco, questo è sia un'eredità del pensiero di Van Vitelli, l'abbiamo visto nella regia di Caserta, quando il volume centrale dell'accesso, molto simile peraltro a questo, timpanato, però in quel caso c'è una sola grande arcata d'accesso, sporge leggermente. E poi ancora i due volumi d'angolo spezzano quella continuità lunghissima della facciata van Vitelliana. Sono sicuramente questi volumi che sporgono un retaggio, un'eredità della grande architettura classicista, penso a Versailles, al lavoro di Mansart, ma come abbiamo visto a scuola, in classe, ma anche dal vivo, anche il San Micheli ha fatto uso di questo leggerissimo scarto volumetrico, sicuramente minore nelle facciate delle porte. Questi scarti hanno sicuramente in Piermarini la volontà di far emergere l'edificio rispetto alla piazza, ma hanno anche una necessità funzionale, hanno una netta corrispondenza funzionale con ciò che sta all'interno. Infatti il volume centrale che vedete, quello con l'accesso carrozzabile, corrisponde all'interno ai camerini della biglietteria, al camerino del guardaroba, al camerino del custode, come li chiama il Piermarini nel progetto, la camera per gli impresari, la camera per gli accordi, la camera per il custode. Ecco, questi e poi dall'altra parte c'è il camerino per l'ufficiale, eccetera, eccetera. Quindi questo primo blocco segnala la parte estremamente funzionale dell'edificio, perché lateralmente proprio al piano terra ci troviamo di fronte alle stanze per il gioco, alle stanze da gioco. Nella parte superiore, questo nel primo ordine, nel primo piano, corrisponde esattamente alla sala della ristorazione, alla grande sala dove si offrivano i banchetti e dietro allo spazio del foyer del primo piano. Quindi segnalare questa parte volumetrica vuol dire segnalare anche le funzioni specifiche che ci stanno dietro e anche questo è un insegnamento lodoliano. Il Lodoli appunto sottolinea come ogni forma all'interno dell'architettura abbia una necessità, debba basarsi per una necessità funzionale. e lo stesso Catremere Vecancy, uno dei più importanti teorici dell'architettura settecentesca, loda questo edificio come uno dei maggiori esempi, anzi il maggiore esempio, il prototipo di tutti i teatri moderni. Nessun teatro, prima del teatro di Piermarini, ha questi aspetti funzionali e diventa di fatto il prototipo dei teatri, il San Carlo a Napoli, ma lo stesso qui nostro teatro filarmonico è figlio di quell'impostazione. E poi ancora il grande teatro di Monaco di Baviera, l'opera di Monaco di Baviera, si basa sul teatro piermariniano. Quindi la facciata, in qualche modo i volumi, scusatemi, denunciano sempre le funzioni all'interno. Infatti il grande volume laterale è quello che appunto segnala la dimensione globale del teatro. Se andiamo invece ad analizzare gli elementi del lessico architettonico, ci ritroviamo in pieno nella grande tradizione classicista. Ancora una volta vediamo che l'attacco a terra, secondo gli insegnamenti vitruviani, è imbugnato alla rustica e la parte superiore invece, il primo ordine è un ordine composito e il secondo ordine è invece realizzato con delle paraste molto sottili in ordine tuscanico. Invece l'ordine intermedio, il piano nobile cosiddetto, vedete che è composto da delle semicolonne binate nella parte centrale, è appunto quella che sporge di più, quella con maggior spessore proprio volumetrico e le parti e le ali laterali sono invece costituite da la scansione binaria di paraste. Ma anche qui vi faccio notare il sottile gioco che c'è nel ritmo delle paraste, ritmo che diventa in Piermarini strettamente modulare. Si tratta infatti di una ripresa della grande tradizione modulare, della grande tradizione dell'armonia tipica dell'architettura classica, in questo lui supera sicuramente gli esempi del classicismo seicentesco, perché misura e sobrietà sono proprio due chiavi di lettura, due cifre caratteristiche del lavoro piermariniano. Qui infatti potete notare come le specchiature sotto le finestre non abbiano decorazioni, ci siano solamente, la trabeazione presenta un fregio liscio, ci siano solamente delle specchiature sopra le finestre timpanate che hanno dei leggeri festoni in stucco e pure il timpano presenta un basso rilievo in stucco che rappresenta il carro del sole, febo con il carro del sole trascinato dai cavalli. Però appunto una decorazione estremamente sobria, estremamente pulita, emerge il contrasto tra la parte intonacata e le parti in pietra. Il primo ordine, le trabeazioni e le finestre timpanate sono, no scusatemi, la parte del bugnato è in pietra di baveno, una pietra già grigio paglierino, mentre tutto il resto, quindi le finestre timpanate, le trabeazioni, il timpano e il resto, sono in arenaria di Vigiu un'altra pietra tipica lombarda e ci sono altre parti sempre, come si dice, in pietra gallina, ecco in pietra gialla. Vi faccio notare come l'insegnamento tardo-barocco vanvitelliano però si ritrovi tardo-barocco di matrice romana, vanvitelli si forma a Roma e compare nella balaustra superiore con quei vasi che la decorano. Cioè un'idea di architettura che va via via alleggerendosi man mano che si va verso il cielo, man mano che si va verso l'alto, gli spessori diminuiscono e la frammentazione, la sgranatura della massa architettonica verso il cielo, come sapete, veniva evidenziata, veniva ottenuta con la presenza appunto delle balaustre. Ecco, la facciata della scala è una facciata estremamente misurata ma anche assume un'importanza, mi verrebbe da dire, relativa perché la visione frontale che abbiamo noi adesso non era appunto possibile nella concezione, nella progettazione piermariniana per i motivi appunto che non esisteva la piazza. Il volume è un volume, cioè l'edificio è un volume, la compattezza di questo volume e il sorgere del volume verso l'esterno è la cifra caratteristica, anche perché dobbiamo pensare che l'unica veduta che c'era possibile era quella da Manzoni, ed era comunque una veduta di scorcio, perché lateralmente emergeva solamente dalle viette laterali, che sono anche molto strette. Faccio, spendo una parola sul progetto Bottiano. Nel 2002 viene affidato a Mario Botta il progetto della risistemazione dell'edificio e dei lavori di restauro interni, ma soprattutto della costruzione di due nuovi apparati, di due nuovi volumi per l'ampliamento del palcoscenico e per le necessità enormi che l'orchestra, l'accademia hanno insomma. E quindi Botta concepisce, come vedete dall'immagine che vi ho messo, due grandi volumi, due volumi proprio estremamente stereometrici, un grande parallelepipedo che sostituisce completamente la vecchia torrescenica e poi un edificio che a noi appare quasi cilindrico, però se guardiamo l'immagine che vi ho messo dall'alto vedete che si tratta di una sorta di planimetria ellittica tagliata su un lato e appunto di un volume pressacchè parallelepipedo ma appare quasi cubico. Ecco, il ricorso alla stereometria è sia nelle corde, nella cifra caratteristica di Botta, Botta è, mi verrebbe da dire, il grande erede della tradizione classica italiana. Classica intendo la tradizione della misura, la tradizione dei volumi, gli edifici di Botta, i volumi di Botta sono volumi estremamente puri, sempre cilindri, cubi, di tutta la sua architettura all'inizio era proprio legata a queste forme pure della grande tradizione italiana. Penso ad un progetto che tutti conoscete che è l'accesso del Marte e l'accesso del Marte si rifà nella misura, proprio nelle misure concrete, al Panteon, anche addirittura nel grande lucernario superiore. è Botta l'erede della grande tradizione architettonica italiana, la misura proprio. Dovete pensare anche per contrapasso che nel 2002-2004 l'architettura decostruttivista di Zadid, di Franco Gary, ormai era a prassi consolidata, era normale per noi architetti vedere volumi che fuoriuscivano, elementi quasi irrazionali rispetto a questa concezione dell'architettura. Lui invece rimane nella misura, ma rimane nella misura dei volumi anche per sottolineare l'importanza del progetto Piermariniano. Lui verrà a dire a un certo punto che è intervenuto in questo modo con i volumi perché il doppio intento di evidenziare le facciate storiche nel rapporto figurativo con il tessuto urbano è offrire al di sopra dei tetti esistenti un linguaggio astratto in modo da separare e evidenziare i differenti periodi storici. Cioè tiene conto sia del rapporto di forma, di figura volumetrica che il teatro Piermariniano aveva, sia appunto di distanziarsi con dei volumi diversi rispetto al progetto originario. Però le lastre di marmo botticino, quindi un marmo bresciano, un marmo sempre lombardo, ricoprono, rivestono gli edifici. Pensate che nel caso dell'edificio ellittico le lastre sono alternate a liste più sottili, nelle liste più sottili sono annegati dei led e quindi di notte la torre appare smaterializzata, appare solo grazie a questo sistema puntinato di luci. È un progetto che interviene in punta di piedi. È stato molto criticato perché non è stata capita questo, non è stato forse capito, studiato il progetto precedente di Piermarini e non è stato capito e studiato da parte dei milanesi insomma qualunque il pensiero di Mario Botta. Però come potete vedere ormai è parte integrante del panorama milanese e risolve benissimo tutti i problemi tecnici che il vecchio teatro ormai mostrava. Intanto il palcoscenico è stato portato a quasi cento, il palcoscenico proprio lo spazio scenotecnico è stato portato a quasi cento metri. È stata costruita un spazio per l'acqua per appunto contro gli incendi. hanno rimosso tutti i materiali non consoni alle moderne esigenze antincendio. Pensate che hanno fatto centoventimila metri cubi di macerie e diecimila viaggi di camion per portare via i materiali. Però tutto il restauro conservativo è stato estremamente necessario per appunto tutto il cablaggio dei parchi dei palchetti l'aria condizionata tutti gli impianti elettrici a norma ma appunto hanno e hanno messo anche in sicurezza tutte le travi linee mettendo dei tiranti interni ma hanno riportato allo stato originale tutte le pavimentazioni sia facendo appunto il terrazzo alla veneziana sia facendo una tutte le togliendo la moquette mettendo tutte essenze e linee nelle pavimentazioni soprattutto della platea che favorissero in più possibile l'acustica ecco qui termina questo lavoro su Piermarini di l'acustica